La struttura interessata è l'ospedale di Paternò e siamo qua per questo. Siamo qua per questo non solo la città di Paternò ma anche altri comuni. Io insieme alla Giunta siamo qua per rappresentare questo. Le strutture sanitarie non possono essere chiuse in maniera indiscriminata, la razionalizzazione della spesa è un problema, è un'esigenza di tutti, però dobbiamo stare attento ai servizi che chiudiamo. Chiude il punto nascite di questo ospedale ma in realtà la paura è che si vadano chiudendo man mano altri reparti. Quindi più che altro la nostra paura per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda è proprio questo. Nonostante questa situazione si porta avanti da 20 anni, perché da 20 anni si presenta il problema dell'ospedale di Paternò e di tutti gli ospedali piccoli della provincia etnea, adesso è stata fatta una scelta a quanto pare definitiva. Si comincia col punto nascite, ma noi abbiamo paura come comitati e come varie associazioni che questo sia il punto di partenza per smantellare tutto l'ospedale di Paternò a favore di ospedali molto più piccoli e meno potenziati di quello che sono la struttura che c'è sul comune di Paternò che a tutt'oggi da pochi mesi ha a disposizione anche una risonanza magnetica all'avanguardia che è stata praticamente riconosciuta con i fondi europei, quindi la comunità europea riconosce un'eccellenza al comune di Paternò al fine di dare determinate strutture e invece la regione con un decreto così ballerino che si alza dall'oggi al domani decide di cancellare totalmente un comune e una struttura che serve già 58 mila abitanti di residenti oltre tutto il bacino attorno. Noi sfidiamo chiunque, anche solo per il degrado, ad andare a visitare i locali che ci sono su Biancavilla in cui si deve ancora spendere, investire e chiudere una struttura che è stata quasi del tutto ristrutturata con reparti nuovi, letti, servizi di aria condizionata già resistenti, cancellare, smantellarli e ricominciare a investire su centri più piccoli.